bella ragazzi siamo io edo, tornati siamo, mi c'è tolto il controllo, ma che cazzo saranno gli spiriti di di halloween ma basta sempre quella canzone, buon spooktober a tutti siamo di nuovo tornati io e maraz su welcome back, fellow undeads, welcome back, sai che no, va bene comunque siamo io edo qua sempre a fare un anno dopo lo speciale, il discorso era never ending nightmares, per chi non l'ha visto link in descrizione e lasciate un bel pollice in su, che c'è anche marcel e anche smith che cammina dietro le sbarre, spoiler, e c'è anche il, cos'è il spoiler? e c'è anche il jumpscare di marce, no, di giacomino, verificante, ma lo mettiamo qui sovra impressione il jumpscare di giacomino comunque vabbè il primo l'abbiamo finito in un'oretta, questo vediamo, vediamo allora c'è, abbiamo visto che c'è scritto hez, che vuol dire cazzi ah ok, ok, ci piace, a me mi piace il cartone in testa sinceramente eh, non sappiamo quali sono gli altri allora nel primo ricordiamolo, eri sta bambinetta in una nave in cui c'erano questi adulti strani che mangiavano qui, il primo, qua il protagonista è sempre la bambina boh, però c'è un occhio ok, non credo che sia la bambina la protagonista guarda di no, vai verso la dereccia perché non sapere se dereccia è destra in spagnolo esatto che brutte le foglie, posso dire ma perché, perché abbiamo messo in bassa reso non va lì tutto ma che cazzo com'è che lo fai? fraivsilo ma figo che parla oh, hai scritto RT? RT, e poi lo devi trascinare che cazzo è RT oh, edo, c'è una cosa che non mi... che schifo cos'è? sembra un alveare eh, no, sono dei morti dei morti? sì, sì faccio che questo casca no, no vabbè, infine ah, no, ragazzi, blind run, eh blind run, non sappiamo niente non abbiamo visto il 3 almeno io non ho visto neanche il 3 neanche io zero è una trappola allora, o, o, o la devi attivare perchè... perchè? no, no, sentiamo vabbè ma hai visto come l'ho rettato? no? oh no, ho x come x per sprint non c'è la sprint sull'altro gioco, questo? eh, ma ora io la vedo eh, se sprinti no eh, sto sprinti mamma mia al pelo poi non capisco mai quando ci succedono ste robe che la gente invece di spostarsi a lato tipo continua a correre eh, tipo fa una scivolata a lato sì, sì cioè, buttati a lato, scudami che cazzo te ne frega sì, comunque non ci hanno contestualizzato niente non sappiamo dove siamo siamo in una foresta siamo in una foresta però ci sono tanti cadaveri che secondo me sono i cadaveri dei passeggeri della prima nave eh, adesso? butto giù GERONIMO! no! perché hai fatto questa cosa? eh, perché non siamo andati a fare nient'altro ma insomma ma abbi pazienza non so se puoi ah vi aiuto vi aiuto ah perché hai provato iphone ciao eh, vuoi una nascarpa, signor Lido? no, grazie non è il mio numero eh, ti... un po' così hai visto che difficoltà impressionante Gigi, raga no, io mi ricordo che una volta si correva con un altro tasto oh no ma insomma eh, mi sono dimenticato devo scrizionare anche un altro tasto devo scrizionare tre tasti assieme cazzo vuoi WTF 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 che cazzo di spavento ah, però sto morto ma come? eh, ciao cazzo ci si è presa una trappola per la fia sullo stingo perché si sono attivate anche le altre? perché è un gioco che... oh, mi ricorda qualcosa prova a venire verso di noi bello 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 ci è piaciuto ci è piaciuto ecco fa una roba portatela appresso che non si sa mai guardate che pesa tipo 40.000 volte e comunque la sta portando con più facilità che il bastone tra l'altro eh, prova a colpire il gomitolo c'è assolutamente niente sai che c'è quello strumento là che... no ah, vengo a ucciderti madonna, è shining questa ok, quindi queste sono tipo un altro che da un tanto di tempo che è... a vederci direi di sì beh, ha ragione ci sta mi fa troppo ridere ah, il cappello è chill hai letto Non lo so, come sempre lo so io Oh vecchio, ciapa Ma dai Immagina se ti posso... Ah, poi prende lui Cioè, lui fa il lavoro più facile, cazzo Mi posso andare dentro? Aspetta, salta come hai fatto prima No, ma sa bene Adesso devi tornare indietro Ah, ma me lo sono messo in scherzella Si, non si sa bene dove Togliti Sta cazzo, amico di me Mi si blocca Cosa stai facendo? Ma di là, torna indietro a destra Allora, grabba il... Ah, puoi prendere per me Oh, che figo E qua Ti porta il nuovo valore Allora, era per sotto, no? Ehm... Piano Piano Ah, non è più che te la devi portare appresso come sul primo Cioè, te la danno là direttamente SOMEBODY WANT Comunque è stato detto che magari esce veramente qualcuno da là SOMEBODY WANT dai ma togli che mi fai male agli occhi carino è francese najwe ha ammazzato i bambini ti ha fatto perdere perchè lo ha ammazzato il tizio che triste No, no, sono morto io, mi ha preso Come ti ha preso il carrizzo giù? Ma vai in figa Prova a chiamarlo, falli hey Non me lo fa fare Mentre tengo per mano st'altro Non può parlare mentre tiene per mano qualcuno Ok Eh no What the fuck Forse perché quando esco dall'erba non devo stare chinato Mamma mia che pallura Cioè, ok È solo che non so perché se muore anche il tipo Ma Oscar non mai ti ha detto che prima sei morto Perché ti sbagliato a te Quindi secondo me non È tipo un god mod God mod Stronger characters in the world Kid from Little Nightmare 2 Che brutto quel cappello Ci proviamo di trovarne uno presto Oh che poi i cappelli sono quelli che trovi Sembra anche sui carabin Che sbrego Oh Dio Ci fidiamo Mamma mia Gesù Ci fidiamo Dai dai si Siamo scappati assieme Che scemo adesso Mi lo passa mai Che scemo Ma che cazzo Noi gli teniamo il ponte Potevi tenerglielo Anche un pochino di più Però voglio ancora succedere Ah no È quello coglione Che ti fa sgamare Ma cosa Come ho fatto Ma c'è buggato o si era Lugina sott'acqua Cosa sta facendo il bambino Vedete già Mamma che legna È mortissimo raga Che botta Però fanno vedere tutto È proprio una città Mamma mia Stranissima cazzo Inequivocabile dove dobbiamo andare Yeah Ci mette proprio Non ho fatto assolutamente niente Bello però Mi piace un sacco Il fatto che L'ambientazione Ma anche il fatto che Ci sono altri che vengono con te Comunque sai che Anche sul primo C'erano simboli Contro il Corruzione delle persone Però l'ambiente cittadino Posso dire bello Ma fa ancora più senso Questo è il bar di BCT Quando avremo soldi Preso così male Sì Spero che non sia preso così Mi piace veramente tanto Anche questo credo sia il simbolo Sia un simbolo per qualcosa Della corruzione No Si era buggato quasi Non avevo capito cosa bisognasse fare Che poi è incredibile Come sia tutto predisposto In modo che Ma sei un Sei un pituso Ciao Voglio dire Bellissimo Ma come si fa Coglione Come si fa a lanciarsi Sei un pituso Sei un pituso Ma come si fa a lanciarsi Ma tu non ti sei lanciato proprio Tu ti sei lasciato andare È diverso Beh perché è una gran rottura di coglioni Vieni qua bro Ma Che cosa è successo Che poi guarda l'effetto È tipo quello degli Avengers Che poi guarda l'effetto È tipo quello degli Avengers Guarda Guarda come ci muoviamo La gravità Bellissimo E questa è la porta dell'intro Tra l'altro Non ho per davanti Infatti non ho capito Perché bisogna Tirarlo per forza così Anche perché Si spinge meglio Per di qua Se vuoi farlo Appunto Sì E questo E noi Qui ci behave in fronte Perché ha fatto così Eeeh Score Mi ha fatto questa scusa per uscire Noi invece Non so perché Tra l'altro Sì E tu Yes Easy Easy peasy Lemos Cazzo C'è una gran città Perché mi ha Cazzo Non è che magari ci sarei Uno di stile Di qua È tipo Di là però Ma sei l'attivata Ah no Non è che Ma cosa Ma cosa Mi è venuto totalmente Ho pensato Totalmente a Ho detto Perché ho visto Quando ho visto Sono andato qua così Ho visto che si è fermato E ha guardato in alto Il bambino Non ho pensato Però non ha senso Cioè Uno come cazzo C'errivava Si è fatto a caso Si in effetti C'era qualcun altro Di imprigionato Di 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 Bic 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 Oh Oddio Ahia i talloni Ahia Ha rimbalzato Che schifo Mamma mia Che botta Ma scusa Ma scusa Ah beh ma perché E' stato Ti cammina sopra E' quello che si fa Vieni qua Vieni qua Un altro bambino Eh beh sì Ah forse dobbiamo salvarli Allora Beh avrebbe anche senso Mette le gente Mamma santa Che culo Probabil Che cazzo di paura Che cazzo era Ah sono tutti i bambini forse Eh ha senso Si è bagato Mi sei bagato tantissimo Che cazzo Che palle Cazzo Venevano Quella scimmia del mio amico Scimmia Inche tanto Quella è la situazione Perché è la stessa scimmia Che c'è Sia su zombie Che su altri Altre robe Anche su toy story Che altre robe Eh vabbè ma Perché è la scimmietta giocattolo Esatto Chiuso Mamma mia Che male Mamma mia Che male Ok ok Guarda che devo No devi chinarti Mi sa Sì sì Sei down Cosa si è mosso Non ho visto Ah Mi ha fatto in giro col martello Così del tipo Sono rotti i coglioni Fate che l'ho doggiata Non si accomeda Che botta di culo Ah un insegnante No Che questa sarà una critica Perché è la società Perché è la scuola Perché è la scuola Tipo Fermo 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 Mi oddio Che schifo È disgustosa sta cosa Il primo ascensore È il mondo che si attiva da solo Che male è un tubo di piombo era lì cosa è fosso? cosa è fosso? ma non mi piace è dentro qua è dentro Cassi era lei che l'insegnante là che si arungava il colo ma è sempre lei? quante robe fa questa signora? guarda che faccia che ha che fabbola si va a far cadere un'altra roba ho fatto cadere un'altra roba me stesso me stesso poi orno vai 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 che scivolà hai cambiato direzione bella per l'ottitudine tanto faccio io esatto e domara zia pronto poi dicono che in italia gli insegnanti sono pagati poco pensa questa qua che porca puttana fa tutto lei cucina va in giro biblioteca insegna cazzo che paura che paura madonna che spavento ma non è vero ma non è vero per favore ma non è vero che paura che paura che paura eh ho preso un bello spavento ah cazzo ho capito per favore oddio ok ok ci sono tanti libri messi così non ne ho più validati perché ma chi è che li ha messi così infatti ah si che apro gli occhiali si muovono bro eh 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 è vivo è vivo è vivo viiiiivo viiiiivo ah questo sembra come è il finderlisto può essere ah beh sì la città che bruciano le nive ok hai capito hai capito che 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 mamma mia che male per forse una botta sul tallone ah però c'è questo ah c'è il nooo ah non sono morto easy perchè corri verso il vuoto vai piano ma hai visto il grande possibile secondo me sblocchiamo tipo un costume ah no fammi capire la prima volta mi faccio male cioè non mi faccio niente ah te si un malucco però la seconda invece si ma sta cagando si esatto sembra quella di castercrush ritorno su castercrush ragazzi sulla poltrona però che sono cagando adesso tutto la salsiccia ciao ciao ah madonna oddio c'è una dai 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 viene qua mi è brutto mi è fottuto ti ha beatato mi ha fottuto mi è fottuto eh il timing non c'è stato non c'è stato no eh la prospettiva mi ha ingannato bitch vai 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 viece viece stronzo bro ma non si capisce un cazzo tipo no la prospettiva è orribile eh non so se li fanno mi sa che li fanno dopo dai viece oddio te la vado viece ancora dai dai è soddisfacente è soddisfacente va a faccare la testa questi bastardi per fortuna non c'è cervello ma c'è bastardi quando sta per saltarti addosso glielo fai mamma mia ti amo ma non è vero che hai visto io che bagato sto gioco massa brutto suca 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 raga è bagatissima da sta parte dimmi che lo faccia tanto ormai quando l'avamo apprecciato avremo anche finito allora è uno è uno poi c'è quello in alto che si è due è tre non l'hai neanche presa tra l'altro ho fatto headshot in realtà ma non ma come devo fare ti immagini tipo si banca si gliccia tipo party all'indietro clip e finisco il gioco ma scusa io non voglio andare e cosa ti hai detto anche a me fa così adesso bisogna rifare di nuovo sta merda buongior che cazzo fai oh patata la patata questa ma ci sta però guarda faccio ti spingere via guarda lo devi dire ah ma si può parlare sta vivisezionando le rane guarda che si prenderà il pranzo ripeto stipendio è troppo basso per sta signora probabilmente è per questo che è diventata così appello al governo appello a tutte le autorità italiane appello cosa ha fatto? ha fatto un cerchio e anche male hola bene andiamo a spaccare un po' dei crani si il tuo è morto anche l'altro è morto col martello che hai impazzato no con l'altro è ritornata indietro poi scusami un secondo loro in pratica si uccidono a vicenda ma dai ma mi ha ucciso che poi mi ha ucciso il secchio tornando indietro ma c'era il cimento che dice uccidi questo e solo quello stesso ma dai c'era il secchio in mezzo alle palle eeeh 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 vabbè come cilessina sulla torta eeeh 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 anche lei gli vedi un video chissà piccolo easter egg in questo video ciao amo eeeh buon compleanno eeeh 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 guarda guarda la mano guarda la mano su che ti fa pun eeeh no aspetta se ne sede più non non è vero ahà lo attira lui hey ah oddio eeeh ma scusa è fortissimo non serve neanche il perché nehmen what the f ah perché l'ha fatto in maniera così Guarda, com'è che sembra che si è girato molto, io direi che sarebbe attento al nostro... No, è che non so perché ci facesse prendere il martello, allora. Vabbè dai. No, abbi pazienza. Secondo te che è che suona? E' sempre la maestra che suona? Sticco, sticco. No. Ah, non me lo vuoi. Dove va? Avrebbe stato sufficiente porgergli la mano in modo che... E lui cade, il nostro cade sempre. Può starsi. Si. Quest'altro ha spaccato la testa del manichino a mani nude. Si è riuscito da sola. Perchè? Perchè? Ok, ha smesso... Oh cazzo, Edo! È abbastanza creepy sta cosa. Via via! Muoviti, imbecille! Si è bloccato. Aiuto, Edo! Via! Adesso fa... Ciuccia! Va bene! Quanto si allunga poi la testa? Basta! Quanto la... Ah basta un po' più. Adesso si stacca la testa. Va tipo... Beh, immagina tipo averla lunga quasi quanto... C'è due palazzi! Servo! C'è una camicia. Pesadina. La mia moglie era che i panni vada dove mette i panni. Bello, bello. Bello, bello. Mi è piaciuto. Qualcappuccio di... Qualcappuccio di... Della bambina del primo? Eh! Aspetta! Meat plot twist Cos Cos Quindi vuoi dirmi che quella è Cos Che è lei la Oh È lei la cosa È quella del primo Vabbè ma che cazzo ci fa là allora Non ci faceva là dentro Però figo Figa sta roba, bella, mi piace Quindi era una tipa, non era un tipa Ti ho comprato un pacco Happy birthday Aspetta Vadovi la mano No Sono stato troppo divertente Glitchato Speedrun per davvero